Lo fai abbassare leggermente e il palco invece me lo tivi giù. Ave Cesare! L'unico sopravvissuto, signore! Dove statelo per terra? Eh? Dove statelo per terra? Allora, come ti chiami, Gideon? Brian, signore. Brian? No, no, Brian. Ai! Il delinquentello ha coraggio. Ma che cosa? Coraggio. Sì, sì, ha comato. No, dico, eh, coraggioso, spavaldo direi quasi. Il momento. Verso le undici, signore. È così. Hai usato un'eruzione. Una che, signore? Per corpi lo centurione, molto rudemente. No! Oh, scusi, lo rovescio per terra? Come? Dico, lo rovescio per terra? Oh, sì, sì, per favore. Allora, Giudeo Marramardo. Io non sono un Giudeo, sono un Romano. Un Romano? No, no, un Romano. Oh, tuo padre era un Romano? Chi era? Era un centurione, della guarnigione di Gerusalemme, signore. Su serio? E come si chiamava? Minchius Maximus. C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione? Ma no, signore. Mi sembri molto sicuro. Hai controllato? No, signore. È un soprannome, signore. Come Muzio Sussemos o Marco Pisellonio. E c'è da ridere su Marco Pisellonio. È un nome inventato, signore. Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio, cos'è questa insolenza? Tu ti ritroverai alla scuola dei creditori molto presto, se insisti a fare così. Scusi, io posso andare. Quando lo racconto Marco Pisellonio. Ancora. Montatelo via. Ma, signore, assoluto. No, non lo voglio battersi contro animali feroci e avviosi entro domani. Sì, signore. Vieni tu. Io non però ammetto che i miei amici vengano di visita a un soldato semplice. Qualcun altro è in vena di... risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo te. Lo trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio. A una moglie, cosa credi? e lo sai come si chiama? Si chiama incontinenzio. Incontinenzio deletano. Direccio! Cos'è questa storia? Cos'è questa storia?